Siamo con Davide Grisafi, allenatore della Bracco Popatria, un commento sulla finale Under 13 appena conclusa. È stata una bellissima finale in cui un buon livello relativo alla categoria Under 13 è stato dimostrato da due squadre, merito va anche a Lilliput che è arrivata in finale in questo torneo. Abbiamo espresso un buon gioco in cui sicuramente la parte di difesa e contraattacco hanno rappresentato un po' la chiave di volta di questa finale stessa. Sicuramente è stata la forza del gruppo all'interno di questo torneo e all'interno di questa finale, quindi sicuramente va a merito alle mie bimbe che tutte insieme sono riuscite a dimostrare il loro valore. Bene, e adesso proprio con le tue bimbe ti chiedo un commento sul torneo. Beh, ormai personalmente è il secondo anno che partecipo, soprattutto nella categoria Under 13. La società è da molti più anni che partecipa, personalmente è sempre un piacere venire a Vicenza per l'ottimo rapporto con Dario Tagliabue che è un ottimo organizzatore di questo torneo oltre che un ottimo direttore sportivo per quanto mi riguarda qui a Torri. Sicuramente un grosso applauso va a lui, a tutta l'organizzazione in generale per l'ottima disponibilità delle palestre, la disponibilità di tutti i genitori, di tutte le squadre per il servizio di volontariato che offrono all'interno della mensa, all'interno dei campi. Ci torno sempre ben volentieri, mi auguro di poterlo fare ancora l'anno prossimo e magari di disputare una finale, perché no? Sicuramente vi aspettiamo all'edizione 2019. Un saluto dalle vincitrici.